e nel nome del progresso il dibattito si è aperto parleranno tutti quanti tutti medici e sapienti tutti intorno al capezzale di un malato molto grave anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto così giovane è un peccato che si sia così conciato si dia quindi la parola al rettore della scuola sono a tutti molto grato di essere stato consultato per me il caso è lampente costui è solo un commediante non è per contraddire il collega professore ma costui un disadattato che si è subito internato al congresso sono tanti molti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare i rimedi per il giovane in questione questo giovane è malato so io come va curato ha già troppo contagiato deve essere isolato sono sicuro e do le prove questo è un caso molto grave trattamento radicale quindi prima che finisca male mi dispiace di sentire per me il caso elementare il ragazzo è un immaturo non ha fatto il militare al congresso sono tanti molti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione permettete una parola io non sono mai andato a scuola e fra gente importante io che non pergo niente forse non dovrei neanche parlare ma dopo quanto avete detto io non posso più stare zitto e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare io devo avvisare di alzarsi e scappare anche se si sente male dai scappa scappa perché c'è il tempo scappa se uno di questi dottori fanno pezzi scappa scappa